Oggi presentiamo il libro di Enrico Cernigoi, la brigata d'assalto Triestina nella zona di operazioni litorale adriatico, una storia militare 1943-1945. Bentornato Enrico, bentornato Enrico Cernigoi. Sei laureato in storia contemporanea, hai conseguito l'autorato di ricerca in Gran Bretagna ed è autore di vari libri e articoli sulla prima e seconda guerra mondiale che abbiamo già avuto modo di presentare qui a tracce, soprattutto quelli che riguardano i sommercibili anche in particolar modo. Ecco, qui invece ti sei spostato a terra. Da dove nasce questo volume? Quali sono intanto le tue fonti? Il volume nasce perché l'ampi di Fiumicello ha preso in eredità alla morte del comandante della brigata d'assalto Triestina, Riccardo Giacuzzo, il suo archivio. Quindi negli anni? Nel 2009. Dal 2009 fino al 2015 hanno tenuto l'archivio, hanno cercato di sistemarlo e nel 2015, verso l'estate del 2015, la fine del 2015, mi è stato chiesto se potevo scrivere una storia sulla brigata triestina utilizzando il materiale del comandante Giacuzzo. Siccome io avevo già lavorato sulla guerra partigiana, la guerra fredda, con la tese del mio dettorato di ricerca, che poi si è tradotto in un libro, Scelte politiche e identità nazionali, poi avevo lasciato questo filone per poi dedicarmi ai sommercibili e altri libri, ho detto che sì, accettavo di fare questo lavoro rendendolo più moderno, nel senso che questo materiale era già stato utilizzato, erano già stati scritti due libri, dallo stesso comandante Giacuzzo, però limitatamente al materiale suo, alcune parti del suo materiale, senza tutto quello che era uscito dagli archivi, perché all'epoca, quando il comandante Giacuzzo scrisse questi libri, non era disponibile. Mentre tu sei andato anche in Gran Bretagna, poi tra l'altro la ricerca si è estesa. Sì, io lavorando in Anglia Britannia all'epoca ho avuto modo di accedere a più archivi, non solo, al National Archives, e ho trovato moltissimo materiale inerente alla Brigata Triestina, ma più in generale alla guerra partigiana, le azioni di controguarra di Giacuzzo. Quel materiale lì, più il materiale proveniente dalla Germania e più quello che è stato edito fino ad oggi, praticamente, mi hanno permesso di avere un quadro pressoché completo, anche se non al 100%, perché altrimenti la ricerca storica sarebbe finita, sulla genesi, sulle azioni e sulla fine della Brigata Triestina. Perché dobbiamo sempre ricordare che la storia è una materia sempre in evoluzione, non dobbiamo mai scordarlo questo dettaglio. Allora, chi era intanto Riccardo Giacuzzo? Giacuzzo era, tanto era nato a Fiumicello, ed ecco perché l'archivio è a Fiumicello, era un operaio dei cantieri navali, poi era stato richiamato in guerra nel 1940, ed era andato a fare una tra le cose più pericolose che esistono in guerra, che esistì nella Seconda Guerra Mondiale, il trasporto di materiali tra la Sicilia e l'Africa Orientale, su una nave. Lì rimase per tre anni. Navi in convoglio, attacchi di sommersibili e attacchi della flotta inglese a Malta. Aveva una certa esperienza di guerra, nel senso che aveva già tre anni di guerra. L'8 settembre, come tutti quanti, cercò di tornare a casa, riuscì a tornare a casa e si unì subito ai partigiani. Si unì ai partigiani nella parte del Friuli, perché non riuscì ad arrivare fino a Gorizia, perché le azioni erano abbastanza fluide in quel momento. E poi, grazie ad un'azione, si avvicinò verso Pieris e da lì prese contatto con quelli che erano rimasti dopo la battaglia di Gorizia sul carso di Comeno, ed entrò nel nucleo centrale di quello che sarà poi il battaglione triestino e la brigata triestina. E con la chi era composta, intanto? Era composta prevalentemente, all'inizio, dagli operai del cantiere di Monfalcone, da militari che erano sbandati e si erano trovati l'8 settembre a decidere sulle loro... Non necessariamente Veneti o Friulani, ma venivano dall'altra parte d'Italia, anche dalla Sardegna... Gli Sardi arrivarono dopo, venivano dalla Calabria, venivano dalla Lombardia, venivano dalla Toscana, da Roma, moltissimi però erano gli operai di Monfalcone. Bisogna ricordare che l'8 settembre gli operai di Monfalcone si mettono in marcia, vanno a Gorizia e combattono, cioè iniziano la resistenza. Nasce proprio a Gorizia, loro immaginano di fermare i tedeschi, l'arrivo dei tedeschi a Gorizia e invece purtroppo i tedeschi arrivano, li sbaragliano per via del forte armamento militare, ma anche dell'esperienza. E questi si ritirano, si ritirano anche le truppe slovene e un gruppo rimane, un gruppo rimane come gruppo quadro praticamente, aspettando gli eventi. Lì Giacuzzo li raggiunge, un gruppo veramente minuscolo che però rimane, si comincia ad ingrossare e dare vita al battaglione. Un tuo libro mi ha colpito molto, tantissime pagine all'inizio, le dedichi all'entrata in guerra dell'Italia, soprattutto alla preparazione da un punto di vista militare, nelle luci che assolutamente non eravamo pronti a farlo. No, no, la mia è stata una scelta, quella di dedicare parecchie pagine a questo problema qua, anche perché, ora, quando si parla di resistenza e seconda guerra mondiale, molto vivo l'interesse, ma è altrettanto vivo l'interesse tra gli specialisti, quindi si perde di vista l'insieme. E se si perde di vista l'insieme diventa un discorso sterile, perché uno dà per scontate alcune cose, alcune cose non sono effettivamente così scontate. E' per questo che pongo l'accento su quelle che erano le preparazioni militari dell'Italia, che purtroppo all'epoca erano scarsissime. Il regime aveva si pompato sulle forze armate, sulla forza della nazione, era riuscito, e questo è vero, ad ammodernare la regia marina, ed era un'arma efficiente e moderna. Ma non lo era così per l'aviazione, non lo era così neanche per l'esercito, soprattutto per l'esercito. Mancava proprio l'addestramento, mancavano le armi, mancava la mentalità. Se non si riesce a capire questo, non si riesce neanche a capire lo sforzo che queste persone hanno fatto poi per dare vita alla guerra partigiana. E' vero che nei due anni, del 1940 al 1943, questi uomini avevano acquisito una certa esperienza, ma avevano acquisito una certa esperienza negativa, però, perché quasi tutte le battaglie che loro fecero erano perse. Non erano battaglie vincenti, però vedevano quello che facevano i tedeschi. I tedeschi, d'altronde io poi lo sottolineo, avevano un'organizzazione militare efficientissima e andare contro di loro lì, questo era il vero problema. Prima è accennato agli sloveni. La resistenza in Slovenia c'era già da per più tempo? La resistenza slovena si organizza praticamente quando l'Italia e la Germania aggrediscono la Jugoslavia e si spartiscono quello che resta di Jugoslavia. E' certo che la popolazione non accetta di buon grado questa sconfitta militare e cominciano a ribellarsi. E' logico che ci sono varie fazioni. C'è la parte monarchica che è legata al re in esilio, ma c'è anche la parte nuova, la parte che si ribella, che vuole una rivoluzione sociale, che sono i comunisti. Poi ci sono anche i cattolici, ci sono i socialisti. Queste anime a un certo punto interagiscono in una maniera o nell'altra e danno vita alla resistenza. E la resistenza è per loro una questione di sopravvivenza, che è completamente diversa da una resistenza normale. Lì era una questione proprio di sopravvivenza etnica. Cominciamo a vedere adesso la nascita del battaglione. Quanti uomini cominciano appunto a formarlo e poi via via? Dove prendono le armi da chi sono aiutati e i rapporti con gli sloveni? Tanto all'inizio le armi non erano un problema, perché quando l'esercito si disgrega ci sono le caserme abbandonate. E' anche vero che i tedeschi corrono lì subito e prendono le armi, anche gli sloveni prendono le armi. Infatti gli sloveni riescono ad armarsi efficacemente, perché prendono le armi dell'esercito italiano, oltre agli aiuti inglesi. E il battaglione lì prende le armi e ce le ha. Quando viene la disfatta di Gorizia e si ritirano, hanno un sacco di armi. Queste armi non vengono buttate via, vengono conservate in apposite caverne. Questo gruppo si ritrova, una decina di persone, 10-15 persone, e man mano che crescono iniziano a organizzarsi. La loro forza è quella di riuscire ad organizzarsi per tutto quanto, nel periodo della resistenza, fino alla fine del 1945, in strutture sempre più grandi, facenti parte, logicamente, dell'esercito nazionale jugoslavo, perché loro dipendevano operativamente, combattevano e operavano sotto il comando, quello che sarà poi il nonocorpus. Però operativamente. Questi sono italiani che decidono di combattere operativamente per l'esercito. Anche perché altrimenti non avrebbero potuto sopravvivere. Erano in territorio praticamente sloveno. Adesso un breve stacco musicale. Torniamo in studio, sempre a tracce. Ciccizzanini ed Enrico Cernigoi, con il suo libro La Brigata d'Assalto Triestina nella zona dell'Operazione Litorale Adriatico. Una storia militare. Allora, Enrico, abbiamo parlato dell'organizzazione, della creazione della brigata e del quadro strategico e anche politico di questi territori. I combattimenti della Triestina. I combattimenti della Triestina sono subito, sono immediati. Nel senso che la Triestina si definisce già all'inizio, anche perché io sono riuscito a intervistare molti di questi uomini che avevano fatto parte della Triestina. Quindi il libro è anche con le interviste e viene rafforzato con le interviste e le esperienze di questi uomini. Si definiscono subito, come giustamente mi disse Abra una volta, che era uno dei massimi responsabili, una brigata d'assalto. Cioè loro non volevano essere degli attendisti, stare lì ed aspettare. Loro dovevano agire. Iniziano ad agire con... Il problema è che iniziare a voler agire. Ad agire c'è un abisso. Quindi iniziano un po' alla volta addestrandosi, imparando come si fanno gli agguati e da lì, anche grazie alle esperienze di alcuni militari bresciani, che erano rimasti con la brigata, con il battaglione triestino, avevano avuto delle esperienze durante la campagna di Jugoslavia, nell'azione contro di guerriglia, avevano appreso come i partigiani agivano, iniziano a porre in essere degli attentati, iniziano contro i tedeschi logicamente, a bloccare strade, a sequestrare persone, materiale, e iniziano a farsi sentire. Mano a mano che si iniziano a farsi conoscere, diventano oggetto sia di ricerca da parte dei tedeschi, ma anche di volontà di moltissimi che vanno combattuti nella battaglia di Gorizia, di voler far parte di questa brigata. E quindi iniziano ad affluire sempre più giovani. E con il ruolo dell'Inghilterra in appoggio. Lì io nel libro parlo molto dei servizi segreti inglesi, perché do l'analisi che i servizi segreti inglesi vedevano prima nell'Eugoslavia e dopo nella Venezia Giulia. La Venezia Giulia è l'anello di congiunzione tra i Balcani e l'Italia, era la via principale per i rifornimenti del Reich. E diventava un obiettivo strategico per gli inglesi. Quindi gli inglesi pongono la loro focalizzazione su quelli che sono i mezzi di trasporto, le vie di comunicazione per interromperle, quindi interrompere la resistenza che i tedeschi opponevano, soprattutto nell'Italia, alle loro forze armate, ma anche in Jugoslavia contro le forze partigiane. E lì gli inglesi mandano delle missioni, che sono missioni dello Specialist Operation Executive, ma anche dell'MI-5 e del MI-6. Questi studiano attentamente tutto quello che concerne l'organizzazione militare e lasciano un sacco di materiale. Cioè lasciano talmente tanto materiale che si può fare benissimo una storia delle formazioni militari in Venezia Giulia, partendo dai loro rapporti di fine missione. Anche perché gli inglesi da un lato sovvenzionavano la guerriglia, dando esplosivo, dando vestiti e anche generi alimentari. Dall'altro però, siccome la pace comunque prima o poi sarebbe avvenuta, in previsione di questi trattati di pace controllavano anche la forza effettiva militare. Il libro è esclusivamente militare, quindi parla e vede solo le cose da questo punto di vista. In questo punto di vista gli inglesi li controllano e li studiano, ma ne studiano anche i caratteri psicologici, quindi noi possiamo farci un'idea di personaggi. Pensavano anche al dopo? Sì, soprattutto pensavano al dopo loro. Loro la guerra la davano già per vinta. Naturale. E i rapporti con i titini? Beh, i rapporti con i titini non potevano non avere rapporti questi. Questi erano italiani, molti erano anche di origine slovena, c'erano italiani, padre italiano, madre slovena o viceversa. Lottavano e combattevano nella selva di Tarnova, nel Carso di Comeno, che è prettamente sloveno. E quindi, se non avessero avuto dei rapporti con i partigiani sloveni, rapporti franchi di collaborazione, non avrebbero potuto resistere lì, perché lì era parte di una zona di operazione del nono corpus dell'esercito di operazione jugoslavo. E quindi, senza un accordo preventivo, non avrebbero assolutamente potuto sopravvivere. E gli inglesi e i titini in questi momenti? Eh, gli inglesi e i titini, lì dipende molto anche dagli ufficiali addetti al SOE, che entrano nelle missioni, come interagiscono in empatia con il comando del nono corpus e quali sono le direttive politiche. Il SOE non aveva una linea politica unica, aveva più livelli di linee politiche e di interpretazione di aiuti militari. Quindi, con un maggiore, i sloveni vanno in contrasto, ma anche lui va in contrasto con questo maggiore. Poi questo viene spostato, arriva un altro e i rapporti tendono a migliorarsi. Logicamente, verso la fine della guerra, i rapporti vengono deteriorati dalla volontà di Tito di non rispettare gli accordi fatti a sua insaputa da Churchill e da Stalin sulla spartizione dell'Eugoslavia. E quindi tutto si riflette nell'operatività di queste persone e soprattutto nell'aiuto che gli inglesi danno ai partigiani. Aiuto che comunque, bisogna essere chiari, gli inglesi lo danno fino alla fine della guerra. Fino ad aprile 1945 loro continuano ad aiutare, continuano ad aiutare e continuano anche a studiare. Tu parli già della fine della guerra, aprile 1945. Quali sono stati appunto gli ultimi scontri e com'era posizionato il battaglione esatto verso la fine della guerra? Sì, il battaglione a un certo punto arriva talmente tanta gente, arriva anche tanta gente da fuori, arrivano i sardi, i ferraresi, gruppi molto consistenti e diventa troppo grande per stare sul calcio di Comeno. Quindi deve essere spostato nella selva di Tarnova, dove la vegetazione e l'orografia del torreno gli permettevano di vivere in maniera più normale. Il calcio, bisogna ricordarsi che fu teatro della prima guerra mondiale, quindi era completamente spoglio. Un'unità di 200, 300, 400 persone che camminano sul calcio vengono facilmente individuati. Lo spostamento nella selva di Tarnova comportò la creazione di una brigata. Cioè non erano più il battaglione dell'inizio, ma divennero proprio una brigata effettiva. Questa brigata effettiva iniziò un ciclo di operazioni di addestramento all'inizio, perché senza addestramento non è possibile fare assolutamente niente, e iniziò ad operare con le altre brigate della trentesima divisione dell'esercito di liberazione in Jugoslavo. Fece moltissime azioni e dalla fine dell'estate del 1944 alla primavera del 1945 sopportò una serie di azioni di controguerrili a tedesca che portarono alla perdita di numerosissime persone. La brigata alla fine della guerra conterrà 514 morti, morti in combattimento, non morti da altre parti. Conterrà anche l'afflusso di migliaia di giovani che entreranno nelle sue file, che poi saranno spostati in altre brigate dell'esercito, sia della CLN che anche del nono corpus. Combattè un'azione di contenimento delle azioni tedesche che furono frequenti e furono violentissime nella selva. Combattè principalmente contro i legionari caucasici, contro gli uomini delle SS e contro la 180esima divisione di riserve. E combattè anche contro il battaglione Mussolini che teneva il fiume del Baccia della Repubblica Sociale. Questo il battaglione combattè in maniera totale, in maniera militare, in maniera totale. E arriviamo alla fine della guerra, alla smobilitazione. Cosa puoi dirci? C'è la destinazione di questi uomini? La fine, in aprile, la brigata riesce a salvarsi dall'ultimo accerchiamento andando verso il lago di Bochinski. È un accerchiamento pesantissimo, dove i tedeschi la vogliono far finita. I tedeschi sapevano di essere lì e lì per perdere la guerra, però avevano l'intenzione di finire quello che avevano cominciato, eliminando tutti i partigiani. Quindi attuano un'azione di rastrellamento sulla selva che costringono tutte le brigate del nono corpus a lasciare la selva, a liberarsi. La brigata triestina ha ormai una certa esperienza. È una brigata militarmente efficiente, riesce ad aprirsi il varco, si libera e arriva sul lago di Bochinski e lì aspetta la liberazione. Finita la liberazione, la brigata, che ricordiamo era in prestito, operativamente, perché era una brigata italiana, viene mandata a Trieste con la brigata Garibaldi, dove entra anche operativamente sotto il suo comando, rimane a Trieste, mi sembra un mese, un mese e mezzo, poi va a Palmanova e smobilita. Una volta smobilitati, quasi tutti i suoi uomini, i sardi tornano in Sardegna, gli emiliani tornano in Emilia, i calabresi in Calabria, i monfalconesi, che ormai sono la stragrande maggioranza, i monfalconesi intendo la parte della bassa pianura fragulana, e Ronchi Lisontino, ecco, non solo di Monfalcone. Tornano a fare gli operai nei cantieri di Monfalcone. Questa è la loro fine. E il comandante Riccardo Giacuzzo? Riccardo Giacuzzo no, Riccardo Giacuzzo invece segue l'armata Jugoslavia, si ritira con l'armata, lui ormai è un ufficiale dell'armata Jugoslavia, si ritira in Jugoslavia, rimane sotto le armi fino agli anni 50, dopodiché si congeda, e va a vivere a Pirano, praticamente, fino alla sua morte. Enrico Cernico, cosa stai preparando brevemente? Qualche altro libro? Sì, ma sul mare. Torno sul mare, spero di venire qui poi a... Consume Arcibile, è abbastanza famoso. È abbastanza famoso. Anche il comandante, un certo comandante è grossi, lo diciamo, ecco, bene. Di Enrico Cernicoia abbiamo parlato del suo ultimo libro, La brigata all'assalto a Triestina nella zona di operazione litorale Adriatico, una storia militare 1943-1945. Grazie a Enrico Cernicoia.